Ciao ragazzi e ragazze, riprendo un tema caldissimo trattato con Andrea Concas stamattina nei nostri live del martedì LinkedIn Focus, seguiteci, live su LinkedIn, Facebook e YouTube, in cui abbiamo letto una notizia di una ricerca fatta da Capgemini specialmente che raccontava l'approccio delle aziende italiane con i dati. Quindi non solo le aziende che si danno, diciamo, analizzano, gestiscono di più i dati in Italia sono nell'ordine le aziende bancarie, assicurative e telecomunicazioni, ma solo un'azienda su 4, il 26%, dice, poi bisognerà vedere, di avere una conoscenza profonda dei propri dati, di saperli analizzare, di conoscerli, di usarli per il business. Ora, la vera domanda è, avevamo bisogno della pandemia perché questo diventasse una necessità forte? Oppure, l'abbiamo già capito? Siamo già sicuri di questa cosa, di averla capita? O forse siamo ancora indietro? Ecco, non credo che potremmo permetterci ancora tanto di stare seduti su queste montagne d'oro, di fatto, e anche di grandi responsabilità, così, ignorandole, come se vivessimo negli anni Ottanta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Stop whining!